Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincao e questa è la Masterclass di Power Query. Oggi la nostra parola d'ordine è Shared. Questa parolina magica ci dà accesso a un mondo che apparentemente è nascosto su Power Query ma che ci dà accesso a tutte le librerie delle funzioni che esistono in Power Query senza impazzire e le possiamo richiamare in modo veramente molto semplice all'interno dei nostri progetti di Power Query. Per reazionare che cos'è questa funzioncina qua col mondo di Excel facciamo un paragone così mi capirete bene noi andiamo qui e qui vediamo che abbiamo la barra della formula quindi qui ipoteticamente potremmo scrivere un bel destra ad esempio aprire la tonda, dire la destra di questa cella qui e prendimi magari gli ultimi tre caratteri quindi lui mi fa il destra di tre caratteri, ok? Però se io vado su questa funzioncina qua, quindi vado su FX e faccio inserisci funzioni qua mi esce un pannellino con tutte le funzioni che posso utilizzare su Excel qui vado ad esempio su tutte le vedo veramente tutte quindi anche qui ad esempio su testo quando clicco mi dà una descrizione di che cosa fa una funzione ma se vengo qui e faccio un doppio clic si apre un pannellino che mi permette di utilizzare questa funzione quindi gli dico destra di cosa un testo mi dice dico guarda questa cella qua quanti caratteri tre e ecco che ottengo lo stesso risultato perfetto questo mondo esiste anche all'interno di Power Query anche se non è esposto in modo evidente vediamo come funziona andiamo praticamente su recupera dati e entriamo sul editor di Power Query qui per accedere a tutte queste funzioni di Power Query dobbiamo andare praticamente su nuova origine, da altre origini e qui facciamo query vuota facendo questa cosa qua noi prepariamo praticamente una query vuota e qui dobbiamo andare a scrivere la nostra parolina magica quindi facciamo un bel uguale scriviamo un bel cancelletto e poi scriviamo shared quando l'avete scritto ok qui si colora di rosso vuol dire che siete giusti va scritto tutto in minuscolo altrimenti non funziona compariva anche shared con punti esclamativi perché qui c'è un oggetto che si chiama così quindi lui cercava di dirmi forse vuole usare quello ma in realtà è questa la parolina quando io qui premo invio ok ecco che compaiono tutte le funzioni di Power Query allora adesso elimino questa per non avere il doppione se andiamo su questa ok è la stessa cosa vedete poi qua ne abbiamo tante però voi potreste dirmi si ma su Excel io posso filtrarmi le funzioni di data, di testo e così via e qui come faccio? semplicissimo quando noi creiamo questa lista qui qui compare un menu contestuale se avete notato che è in arancione no? e qui compare il bottoncino in tabella quindi se io clicco in tabella trasformo questa lista in una tabella quindi ipotizziamo che adesso noi vogliamo vedere solo le date ad esempio andiamo qui facciamo un filtro scriviamo date ecco che mi compaiono tutte le funzioni con la data quindi mi filtro le date ecco che ho tutte le funzioni con la date ma facciamo un attimo un passo indietro quando noi siamo qui oltre alle funzioni vedete se io comincio a scrollare vediamo tante cose vediamo anche queste cosette qua no? piuttosto che vediamo anche all'inizio che ci sono queste di cose FN Webpage se osservate questo FN Webpage è una funzione custom che abbiamo utilizzato nella precedente lezione che è proprio questa quindi diciamo che Shared non vede solo il contenuto delle funzioni che sono cablate all'interno del motore di Power Query che Microsoft ha cablato per noi ma mi vede anche le funzioni che noi abbiamo creato in modo custom vede anche gli oggetti vedete tb date vedete qui c'è tb date mi vede anche questo oggetto mi vede i parametri vedete ho fatto il parametro radice nella lezione del precedente e qui mi fa vedere che cosa c'è dentro il parametro radice quindi questo Shared ci dà accesso anche a tutti i contenuti del nostro modello di Power Query e ci può essere utile per visionare un po' il contenuto che abbiamo all'interno del nostro modello però facendo di nuovo un passo indietro cos'è che avevamo fatto nella scorsa lezione? avevamo preparato questa funzioncina qua perché dovevamo scaricare delle informazioni da internet quindi il nostro codice nella precedente lezione era che se noi qui mettevamo una B sotto c'è la radice qui aggiungeva la B e se facciamo richiama lui andava a richiamare praticamente il dato dal nostro sito web perfetto questa cosa qua la possiamo fare anche con le funzioni di Power Query che sono qui in elenco facciamo un esempio qui abbiamo ad esempio ho fatto una tabella dati con immettere i dati sono venuto qui e ho messo praticamente un po' di dati e l'ho formatato in data adesso io da questa cosa qua voglio avere una colonna aggiuntiva che mi dica a che mese appartiene lasciamo stare che qui posso andare tranquillamente a trasformare questo contenuto con i pulsantini di Power Query e trasformarlo direttamente ma è giusto per capire il concetto perché poi possiamo fare la stessa cosa con tutte le funzioni quindi andiamo ad esempio su Shared andiamo qui clicchiamo sul menu e facciamo un bel date adesso quando io l'elenco delle date andiamo a cercare ad esempio quella che ci converte la data in mese quindi eccolo qua date month name quindi vedete qui c'è Function se io adesso clicco su Function oltre a dirmi tutte le funzioni mi dà un testo e mi spiega che cosa fa la funzione specifica mi fa vedere anche come applicarla e già questo è tanta cosa ma se io clicco su Function ok adesso dov'era date month eccolo qua faccio Function si apre il pannellino della funzione e lui mi dice guarda mi fa una proposta mi crea la funzione sotto e poi mi dice se voglio ottenere all'interno di questa funzione un risultato quindi qua ad esempio se li do 0 1 0 1 0 2021 ok e faccio ok lui mi continua questa questa query qui mi aggiunge un valore e mi crea il parametro gennaio perché il 0 1 0 1 2021 era gennaio ok adesso torno indietro di un passaggio quindi ipotizziamo restiamo qui quindi lui io qui ho aperto la funzione attraverso Shared l'ho premuta su e l'ho attivato ho creato un oggetto all'interno di Power Query adesso io voglio utilizzare questa funzione qua su questa tabella quindi come faccio? faccio come ho fatto nella precedente lezione passaggio molto interessante quindi andiamo su il menu aggiungi colonna e dico richiamo a funzione personalizzata perfetto vengo qua query della funzione dato che qua l'abbiamo creata ok adesso mi compare in lista vedete prima c'era solo quella che avevamo fatto custom e adesso è comparsa anche Shared che è quella che noi abbiamo creato quindi creo su Shared vedete che compaiono i parametri in cui gli dico guarda voglio il mese basato sulla colonna date così quando lui richiamerà la funzione mi creerà il mese su ogni singolo record in base al contenuto che c'è qui sulla sinistra perfetto ora faccio ok ecco che mi è comparso appunto il nome del mese relativo a questa data ripeto Shared è veramente potente perché ci dà accesso a tutte queste belle funzioni si permette cliccandoci sopra di aprirle quindi di creare l'oggetto e poi di utilizzarlo all'interno dei nostri modelli di Power Query direi che è una cosa veramente veramente fantastica ed utile e importante da conoscere per riuscire a sviluppare tante cose senza impazzire con le formule e con le colonne personalizzate e tutti gli script bene anche con questa lezione siamo giunti al termine se è stato il vostro gradimento lasciate un bel like qua sotto iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale se invece vorrete sostenermi dandomi la possibilità di continuare a tenere aperto questo canale inserendo sempre contenuti nuovi ogni settimana magari pensate a stipulare un abbonamento cliccando abbonati qua sotto se invece vorrete semplicemente fare un ringraziamento per questa specifica lezione c'è anche il bottoncino grazie che permette di fare una donazione una tantum sempre verso il canale bene con questo è tutto vi ringrazio molto di avermi seguito ci vediamo alla prossima puntata a presto ciao